Gli attivisti per i diritti umani siriani hanno chiesto all'Unione Europea di contribuire a fermare la crescente violenza contro i rifugiati siriani a Cipro e in Libano, compresa la deportazione forzata. La crescente instabilità in Libano, che ospita 1,5 dei 6 milioni di rifugiati siriani, ha portato i richiedenti asilo a cercare di raggiungere Cipro attraverso il Mediterraneo. La cipro attraverso la catastrofe dei rifugiati siriani, sappiamo che molti di quelli che hanno forcibito rilassati sono dettagli per l'arrivo o sono conscritti nel servizio militare per l'arrivo del governo. E in un modo, molti hanno anche, come ho detto prima, hanno finito a servire in l'arrivo russi. Ad aprile, il governo di Nicosia ha deciso di sospendere l'esame delle richieste di asilo dei migranti provenienti dalla Siria, perché impossibilitato a gestire i flussi in arrivo, in attesa che l'Unione Europea definisse alcune aree del paese come sicure, in modo da consentire i rimpatri dei migranti. A luglio, otto paesi membri dell'UE hanno inviato una lettera comune all'alto rappresentante per la politica estera, Giuseppe Borreye, con l'obiettivo di avere una politica per la Siria più attiva, orientata a risultati e operativa. Un rapporto delle Nazioni Unite di febbraio affermava che la Siria non offre condizioni sicure ai rimpatriati, poiché sono soggetti a gravi violazioni e abusi dei diritti umani.